Ciao, chi sei? Sono Alessandro Zamparelli di MoxDesign, studio di design generativo, tecniche di modellazione digitale avanzate per la realizzazione di prodotti unici e altamente complessi da realizzare prevalentemente tramite stampa 3D. Abbiamo iniziato un percorso di sviluppo di alcuni prodotti stampati in 3D, la cui genesi di vedere poi lo sviluppo di Carapace Project, che è un brand che vende e promuove prodotti e accessori di moda stampati in 3D e realizzati tramite questa tecnologia. Allo stesso tempo sono progettista di altri prodotti sempre legati al corpo. Tra i vari progetti che ho sviluppato c'è una mascherina anti-smog, quindi un oggetto contemporaneo cercando di dargli un'accezione contemporanea a livello estetico e dall'altro lato una lampada che attraverso degli algoritmi che simulano il comportamento di fluidi crea un effetto di traslucenze particolari.